L'usura, che cos'è? Io ti do in prestito 1.000 euro, fra tre mesi me ne devi restituire 2.000. Fra tre mesi me ne devi restituire 3.000, ma se io fino a me sono venuto in prestito a te, a chiedere su prestito a te, perché non posso andare avanti. E fra due mesi, due mesi, come faccio a trovare i soldi per darti 1.000 euro? Tu ti metti in un sacco, bello, comodamente, ma io andrò a prendere. E domani il Signore, che è caritatevo, che cosa dirà a te? Hai fatto un'opera buona. Mentre se fai un'opera buona, l'aiuto anche prendendo un giusto guadagno, giustamente perché tu puoi andare da campare, i soldi che tengo, tu le usi, i puoi andare da campare, ma è sempre una quota giusta. Allora, se tu fai un'opera buona, il Signore moltiplicerà pure per te. Ma quanta gente, a un certo punto, ha minacciato il suicidio addirittura, perché non ci fa più a pagare questi strozzini. E allora non ci mettiamo in queste condizioni. Cerchiamo di capire anche gli altri e di operare facendo il bene.